Quando ti nasce un bambino è come se ti tirassero un petardo acceso in casa e tu passassi tutto il tempo a cercare di spegnerlo Il cane lupo mi fissa con quel tipico sguardo che hanno i cani lupo quando girano la testa per non capiscono qualcosa E dentro di te c'è un solo pensiero Stai per diventare padre Buonasera 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 Grazie a tutti.